Amore per il trattore o guadagnare con l'agricoltura? In questo video vediamo perché ce ne ho in mezzo a queste due frasi. Se ancora non mi conosci, io sono Valentina Ceretani, sono una biologa specializzata in agricoltura naturale e insieme ad Alessandro De Luca abbiamo creato il sistema di marketing agricolo che viene applicato attraverso il metodo BSC. Che cos'è? È un sistema che aiuta aspiranti agricoltori e aziende agricole a guadagnare, quindi avere più margini con la propria azienda agricola, in più insegniamo anche a coltivare in piccoli spazi, giardini o balconi in casa. In questo video andiamo proprio a vedere perché c'è una O in mezzo alla frase Amore per il trattore o guadagnare con l'agricoltura. Infatti, perché non possono coesistere queste due cose? O meglio, possono coesistere ma vediamo in che senso. Allora, molto spesso, anzi nel video precedente, Alessandro ti ha spiegato che cosa è il focus e l'importanza di avere un focus. Quindi sai benissimo che per andare avanti, ma soprattutto per raggiungere gli obiettivi che vuoi raggiungere, quindi in questo caso magari aprire un'azienda agricola, aumentare i margini dei tuoi prodotti, quindi riuscire a guadagnare di più con la tua azienda agricola, è molto importante che tu hai il tuo focus ben delineato davanti, hai il tuo obiettivo e appunto fai delle azioni che mirano verso questo obiettivo. Che cosa succede? Che è difficile ovviamente essere focalizzati e avere il focus su un'unica cosa, no? Perché ovviamente la vita ci mette davanti a tantissimi dubbi, tantissimi scogli, tantissime difficoltà e quindi a volte questo focus in realtà si perde un po' e quindi diciamo ci confondiamo, mettiamo il focus su altre cose, ci rendiamo conto che magari non erano importanti, allora sì riprendiamo il nostro focus e andiamo avanti e così via. Quindi è molto importante per il raggiungimento dei propri obiettivi, questo in qualsiasi ambito della nostra vita, avere il focus. Quindi il focus è appunto una parte importante di questo video, no? Diciamo che per scopi didattici, quindi per riuscire a spiegarti meglio questa cosa, diciamo che possiamo dividere le persone in due categorie, persone che appunto vogliono aprire magari o che hanno già un'azienda agricola, ok? Quindi le possiamo dividere in queste due categorie. La prima categoria sono persone che magari o hanno già un'azienda agricola o comunque vogliono partire da zero e aprire un'azienda agricola e che si rendono conto ovviamente che hanno magari bisogno di formazione, no? Quindi che cosa è che le spinge a voler portare avanti, a voler raggiungere l'obiettivo dell'azienda agricola? Le spinge principalmente la passione per la natura, cosa che a mia Alessandro è proprio questo, no? Che ci ha spinto l'amore per la natura, ma soprattutto il produrre un qualcosa in primis di qualità per poterlo mangiare noi e per poterlo far mangiare alla nostra famiglia, ma in secondo luogo anche per venderlo e quindi avere un guadagno anche su questa cosa. Quindi una cosa che ci piace tantissimo, ci dà da mangiare a noi di qualità e che ci permette addirittura di fare il lavoro che vogliamo e quindi di guadagnarci, no? Quindi questo è, diciamo, l'obiettivo della grande maggioranza delle persone che vogliono aprire un'azienda agricola. Quindi autoprodursi del cibo di qualità, ovviamente perché noi vogliamo mangiare di qualità e poi poterlo vendere al giusto prezzo sul mercato per vivere la vita felice e serena come vogliamo, ok? E questo è un obiettivo nobile, un focus molto importante, no? E quindi questa prima categoria di persone appunto si rende, cioè è spinta da questa visione, da questo sogno e quindi inizia a fare azioni per raggiungerla. Azione dopo azione si rendono conto ovviamente che magari hanno bisogno di informazioni, informazioni di qualità, quindi magari che cosa è meglio coltivare, come coltivarlo, ma soprattutto poi come riuscire a venderle. Quindi iniziano a formarsi e magari arrivano a conoscere noi e così via e quindi arrivano poi a raggiungere il loro obiettivo che è aprire un'azienda agricola e farla andare avanti in modo efficiente con i giusti margini, quindi guadagnare con la propria azienda agricola. E quindi fin qui tutto bene, però diciamo che focalizziamoci sul loro focus principale che è quello di ottenere prodotti di qualità e avere margini a sufficienza per portare avanti l'azienda. Poi c'è una seconda categoria di persone. Questa seconda categoria di persone invece ha un altro focus. Diciamo che generalmente, tendenzialmente ovviamente qui generalizzo, non è sempre così ovviamente, ma in generale questa seconda categoria di persone sono persone che già nascono in un contesto agricolo, quindi magari i genitori nonni hanno un'azienda agricola e quindi nascono proprio all'interno di un'azienda agricola con le credenze, diciamo i paradigmi di un'azienda agricola, magari di molti anni fa, no? Che potrebbe essere una cosa bella, ma anche può avere anche dei problemi, no? Che appunto adesso vediamo. Quindi molto spesso appunto nascono nel contesto agricolo e quindi fin da piccoli si ritrovano a magari giocare con giocattoli del tipo trattori, ad essere immersi proprio nell'amore per le macchine agricole, per il trattore e così via. Quindi diciamo che crescono, cioè i bambini soprattutto sono affascinati, no? Dalle macchine, dai giochini, dalle macchinine eccetera. Quindi se i genitori ovviamente gli permettono, tra virgolette, cioè li portano, gli regalano sempre trattori, parlano di trattori, gli fanno vedere video su YouTube, per esempio, di trattori, ovviamente questo bambino si appassiona ancora di più di trattori. Cresce, ovviamente crescendo in un contesto agricolo, viene portato ovviamente lui stesso a fare esperienze sul trattore, è molto bello, si diverte e così via. E poi cresce, cresce e magari, come giusto che sia, decide di, diciamo, intraprendere il percorso scolastico del tipo agrario, comunque qualcosa del genere, quindi legato alle tradizioni della famiglia e a quello che gli piace fare. E tutto questo è molto bello, no? Perché comunque c'è un qualcosa legato a mi piace fare il lavoro agricolo sul trattore, mi piace il trattore e quindi intraprendo questo percorso. Quindi va benissimo. Il problema è che il focus di questo bambino che diventa ragazzo e che diventa adulto e che quindi diventa un futuro imprenditore agricolo è quello del trattore, quindi si innamora delle macchine agricole e dei trattori, quindi il focus non è più voglio aprire un'azienda agricola per produrre alimenti di qualità e per vendere e riuscire ad andare avanti e portare la mia azienda al successo, ma il focus è voglio lavorare la terra con il trattore, quello che ho visto nel video l'altro giorno, che magari ha queste caratteristiche, bello, superpotente, bellissimo, che costa tantissimo, voglio quel trattore per lavorare il terreno con quel trattore. Non mi interessa tanto che conseguenze ha le lavorazioni di quel trattore sul terreno, non mi interessa se il prodotto verrà di qualità o meno, l'importante è lavorare con il trattore. E questo purtroppo, portato proprio all'estremismo, è sbagliato, no? Perché come abbiamo detto il focus è importante e per sviluppare un'azienda agricola di successo è importante che il focus sia su prodotti di qualità e su marginare con questi prodotti sul mercato e quindi venderli al giusto prezzo. Quindi se il focus diventa il trattore, c'è un problema. E non dico ovviamente che il trattore non serva o non vada bene, ovviamente se uno ha un'azienda agricola, anche piuttosto grande, il trattore serve, ok? Serve, è importante scegliere il trattore giusto, è importante ovviamente saperlo utilizzare e lavorarci il terreno, ma non deve essere il focus principale. Infatti, che cosa spesso, poi che cosa accade purtroppo? Che le persone che magari fanno parte di questa seconda categoria e che quindi diciamo sono amanti del trattore e punto, quindi il suo focus, il loro focus è sul trattore, che cosa succede? Che magari si trovano in difficoltà poi a portare avanti un'azienda agricola. Perché? Perché appunto magari si focalizzano sul produrre tanto, no? Quindi se io ho un prodotto, non mi va tanto bene l'azienda, non è che penso a come portare l'azienda a uno scalino successivo, a come migliorarla dal punto di vista vendite, ma queste persone subito li viene in mente, per tutte le credenze e tutte le esperienze passate, li viene in mente di aumentare la produzione, aumentare la grandezza del trattore, magari prenderne un altro, lavorare il terreno e quindi produrre ancora di più. In realtà purtroppo la soluzione non è produrre di più per vendere di più, no? E quindi appunto come è ben chiaro, il problema è il focus, quindi questa persona dove mette il focus? Mette il focus sul produrre di più. Non funziona, quindi se una persona, diciamo, o se un'azienda agricola ha difficoltà nella vendita, ovviamente si deve focalizzare su come migliorare la parte di vendita, quindi non produrre di più, ma fare in modo che quel poco prodotto che hai o quel tanto prodotto che hai, venga venduto al giusto prezzo e nel giusto modo, ok? E purtroppo se hai il focus sul trattore questo non è scontato, ok? Non viene come prima idea in mente di dover formarci sulla parte di vendita. E più passa in secondo piano anche una parte importante che è proprio la qualità dei prodotti, no? Quindi molto spesso dico sempre che la qualità dei prodotti da che deriva? Deriva da una giusta gestione del terreno. Quindi se il terreno è in salute, è sano, è vitale, allora noi otterremo dei prodotti di qualità. Ma per far sì che il terreno sia vitale, sia sano, ovviamente c'è un lavoro da parte nostra, da parte di un imprenditore agricolo, che è quello di lavorarlo nel giusto modo. E anche qui stessa cosa, no? Se noi siamo focalizzati sul tipo di trattore e non ci chiediamo come verrà il prodotto o che tipo di conseguenze ha sul terreno, non possiamo ottenere un prodotto di qualità, ok? Quindi è molto importante farsi le giuste domande, prendere il trattore e dire ok cavolo, questo trattore, questo macchinario, che cosa fa il terreno? Fa le giuste lavorazioni? Distrugge il terreno? Perché se distrugge il terreno allora non posso utilizzarlo, non posso acquistarlo perché sicuramente mi impedirà di avere un prodotto di estrema qualità. E quindi allora che faccio? Mi informo, studio, aprendo notizie nuove, aprendo fatti nuovi e vedo che c'è uno strumento che magari costa anche di meno, che è molto più piccolo ma che mi consente di fare delle lavorazioni che invece apportano vita al terreno e che quindi mi fanno ottenere prodotti di qualità. Per concludere questo video voglio farti capire che è importante che tu capisca a quale categoria appartieni. Quindi magari se appunto hai la passione, hai il focus di ottenere prodotti di qualità e avere i giusti margini per aprire e gestire la tua azienda agricola con successo allora la strada dell'imprenditore agricola è la strada che fa per te quindi hai compreso perfettamente che hai bisogno di formazione formazione quella giusta, quella di qualità che ti permette di fare i passi giusti e arrivare al tuo obiettivo e quindi non ci sono problemi hai tutte le carte regola per raggiungere tutti i tuoi obiettivi. Se invece appartiene alla seconda categoria e quindi ti sei reso conto che ami molto di più il trattore lavorare il trattore e non tanto tutta la parte di vendita, tutta la parte burocratica non c'è nessun problema, va benissimo semplicemente puoi basare il tuo lavoro su fare lavoro da terzista per un imprenditore agricolo quindi questa mansione, questo lavoro è molto richiesto dagli imprenditori agricoli e quindi con la giusta strategia di vendita e con il giusto marketing puoi veramente ricavare un buon business anche da questo lavoro e soprattutto segui la tua passione che appunto sono i trattori, sono le lavorazioni quindi magari puoi specializzarti veramente tantissimo su questa branca. Io ti ringrazio per aver visto il video, spero che ti sia stato d'aiuto per maggiori informazioni trovi i link qui sotto ma soprattutto puoi chiamare il numero verde che è 800 150 010 e uno dei nostri addetti ti risponderà a tutte le domande. Ti ringrazio e ci vediamo nel prossimo video.